si minore settima bemolle quinta si semi diminuito sulla seconda corda secondo tasto abbiamo la tonica che è il si sul terzo tasto terza corda abbiamo il fa che è la quinta diminuita sul secondo tasto quarta corda abbiamo la nota la che rappresenta la settima minore infine terzo tasto quinta corda abbiamo la nota che è la terza minore un'altra posizione per questo accordo è sul settimo tasto prima corda settimo tasto abbiamo la tonica che è il si ottavo tasto seconda corda abbiamo il fa che rappresenta la quinta diminuita settimo tasto terza corda abbiamo la settima minore che è il la infine settimo tasto quarta corda abbiamo la nota re che rappresenta la terza minore si semi diminuito si che rappresenta la tonica re che rappresenta la terza minore fa che rappresenta la quinta diminuita e la nota la che rappresenta la settima minore e la nota che rappresenta la settimana Grazie a tutti.